musica l'andragosa quando si faceva il ciò peggio perché si accettava il porco il ciò peggio si ristregnava tutte le perinte la mattina si fattava il porco sopra un'altra nocce e poi ci fanno i due sieroli ma perché i due sieroli? i due sieroli avevano trovato le contramenzine aveva pagato i due sieroli? e le bullette non si poteva fare perché le soldi non si stavano e non si era fresche le mattine Galibberto si chiamava il due sieroli quel romagnolo faceva il cognome a cretino no no ma ne aveva fiori però non aveva fiori anche quello che ti abboniva se ti abboniva non ti faccio sennò aveva trovato quello che aveva accattato una bottiglia per le cose quello romagnolo e aveva occupato pure la contramenzina dopo hanno fatto una legge si accattava il bueno e lo portava sotto la coppa o sotto la giacchetta quello che aveva accattato quello che aveva accattato e ti diceva sapeva che portava lo sgobbio ti diceva lo sgobbio ti diceva che ci portava sotto la coppa quello che aveva accattato quello che aveva accattato quello che aveva accattato quello che aveva accattato la coppa l'allaricava e cascava lo sgobbio e noi potessi fare la contramenzia allora questo è il trucco del mestiere quello che aveva accattato lo sgobbio e noi stavamo a dire lo porce si accettava lo porce ma con gli uova le strallevano lo porce e quindi lo doveva sgobbio lo porce quando si accettava lo porce la fama lo fu a scrivere su anche nocce le parenti venevano per esempio cinque di parenti l'uomo e dopo si ristrinava si aveva accattato l'uomo che aveva accattato lo porce si faceva lo sangue nocce una pepa secca e dopo si arriva del guancello e la vena lo sgobbio e si attaccava a mancare alle due si mangiava tutto senza riferimento lo porce ma cuoce tutti si ristrinavano tutti qui a cretini bachini a ieri un'altro a ieri un'altro a ieri non ci manca niente ci mancano tutte cose ci manca lo malvedere ma tutti i clienti il malvedere ha due su queste magliettate la poona ma senza ieri ma dentro le potevano la carne gli atti e che si parla di crisi e se avesse assaggiato quello che l'hai assaggiato ieri se avesse assaggiato quello che siamo assaggiato ieri tra parentesi che noi eravamo una famiglia con terra a terra noi eravamo una congelizia una mezza cotto euro ma quello che è stato proprio in terra che le chiamo?